Buongiorno a tutti i colleghi, oggi questa diretta per aggiornare quello che Calori Academy sta realizzando nell'ambito degli allungamenti di capelli. A proposito, il nuovo studio a via dei Gerani 65 Interno 1, lo potrete trovare su internet e l'ubicazione è Cento Celle, fantastica, un quartiere molto bello, è uno studio privato dove andiamo a realizzare per il momento le quattro tecniche di extension che sono a fusione, a connettore, a clip e a tricce e anche via adesivi perché stiamo riorganizzando loro per farvi vedere questi nuovi prodotti. Quindi ricordatevi via dei Gerani in 65 Interno 1, Calori Academy, per appuntamento lavoriamo solamente dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 17, quindi è un laboratorio anche per sistemare parrucche eccetera e quindi un ambiente gradevole, poi vi posterò qualche foto per il momento, ma stiamo mostrando tutte le foto di tutti i nostri lavori, quindi sto tappezzando le pareti piano piano, quasi 50 quadri ci vorranno per descrivere la mia carriera di estensore dei 50 anni quasi, quindi andiamo avanti. Allora poi ricordo il 12 giugno ho questo corso master, per chi vorrebbe partecipare mi contatti e gli darò o manderò un incaricato specifico che gli spiegherà tutto il programma del percorso e non corso che dura un anno.